Gianni Tarello, coordinatore delle cooperative forestali in Alleanza delle Cooperative. Tu una casa in legno a metri zero l'hai anche realizzata, ma dove stanno andando le imprese con questo sistema di filiera locale è ancora molto da costruire, c'è molto da mettere insieme, vero Gianni? Sì, grazie Marco per l'invito, saluto tutti. Sì, purtroppo la situazione forestale in Italia non è positiva, l'hanno già detto Marchetti, l'ha già detto Cagliari prima di me, quindi insomma i dati sono questi. In buona sostanza l'Italia ormai viaggia verso il 40% di superficie forestale coperta, l'Italia è uno dei paesi esportatori di prodotti manufatti in legno più importanti del mondo, ma importa oltre l'85% del legno che utilizza. A questo aggiungiamo un'altra cosa, non parliamo solo di legno ma parliamo anche di gestione forestale dei territori, aggiungiamo il concetto che il dato, vi aggiungo questo dato, che il 70% delle aree censite in tutta Europa con problemi di dissesto idrogeologico si trovano in Italia. Ora, chi ha quattro nozioni di base di selvicoltura sa che la gestione forestale sostenibile è lo strumento migliore per prevenire il dissesto idrogeologico, cioè questo lo sanno anche. Quindi noi abbiamo ricchezza forestale, perché una delle frasi storiche del mondo forestale italiano, l'Italia è ricca di boschi poveri, è come diceva Fantozzi, una cagata pazzesca. Noi non è vero che abbiamo boschi poveri, noi abbiamo legnami di ottima qualità. Mi spiace per i trentini, non voglio offenderli, ma se mio nonno avesse saputo che io costruivo un tetto in abetta e mi avrebbe preso a calci in culo da qui a Roma, perché da noi si costruisce il tetto col castagno, col rovere, che scusate se poco, però sono altri legni, ma non voglio sputare sulla vete, ci mancherebbe, non me ne vogliono Gabriele e Angelo. Dopodiché, purtroppo, questo paradosso forestale italiano è una cosa che non possiamo più tollerare, insomma. E dirò di più, ma non voglio aggiungere altro anche perché l'ora è tarda, secondo me con questi dati del settore forestale non si può parlare di transizione ecologica nel nostro paese senza affrontare il tema forestale. Ed è una vergogna, e lo dico, lo ripeto e lo ribadisco ancora, poi perché lo ribadisco, ma perché adesso vi dico anche il perché, ed è una vergogna che nel PNRR i fondi per il settore forestale siano stati tolti e solo ieri ho saputo chi è il colpevole di questa scelta ed è vergognoso. Quindi, mi vergogno persino a dirlo, ma è stata una scelta scelerata. Quindi, boh, cioè, credo che tu Marco poi lo sai, non viviamo lontano, conosci le vicende nostre, le difficoltà che abbiamo fatto e quanto sia difficile oggi, e questo mi aggancia a un discorso che faceva ieri la Ministra Germini che ho sentito nell'Assemblea, quanto sia difficile oggi riuscire a fare sinergia tra imprese e istituzioni locali, soprattutto di montagna. perché se ci sono delle leggi che in certi ambiti, come quelli cittadini urbani, hanno aiutato magari a fare più chiarezza, mettere più trasparenza nelle cose, nella montagna dove le risorse sono limitate, dove le competenze, quando ci sono, spesso ci vengono rubate, la difficoltà a fare sinergia per tutti questi carilli burocratici, per tutelare la trasparenza, tutelare chissà che cosa, cioè, alla fin fine, hanno impedito questa sinergia e continuano ad impedirla. Per cui abbiamo situazioni dove, che ne so, i lavori di montagna vengono realizzati da imprese che magari vengono, dico per esempio in Piemonte, vengono realizzate da imprese che si trovano in Sicilia. E questa è una situazione che non può andare avanti, ma non ce l'ho con i siciliani, semplicemente che io da piemontese non voglio andare a lavorare in Sicilia, voglio andarci in vacanza, questo mi va bene, ma non voglio andarci a lavorare, voglio poter lavorare per il mio territorio, essere responsabile del mio territorio. Quindi questo sta diventando sempre più difficile. Quindi quando la Germini ieri parlava di dateci delle soluzioni su come fare per poter superare questi ostacoli, secondo me uno dei problemi principali è proprio quello di, per riuscire a spendere questi soldi del PNR, mettere da una parte tutti i principi e cominciare a pensare concretamente le cose da fare.